Seduta dai risvolti inaspettati, la quinta udienza nel processo d'appello per il crack della Popolare di Vicenza in aula bunker a Mestre, discussa la memoria dell'ex vice direttore generale Emanuele Giustini, condannato in primo grado a sei anni e tre mesi nel processo in tribunale a Vicenza. L'altro giorno è successo un vero e proprio terremoto, quando l'ex vice direttore della Popolare Emanuele Giustini ha dapprima depositato una memoria difensiva auto ed etero accusatoria e successivamente ha chiesto di essere riesaminato. Adesso c'è una Bagari in aula, motivo per cui alcuni insistono perché venga sentito nuovamente il dottor Giustini, logicamente i difensori di coloro che erano sempre prima stati assolti, nonché il difensore del dottor Zonin che è stato chiamato in causa da questa memoria, si stanno opponendo e cercando di impedire l'accesso a questa nuova estensione probatoria. Sembra per molta parte trattarsi di temi già ampiamente dibattuti in primo grado e quindi inutilmente riproposti in questa sede, ma vedremo che cosa deciderà la Corte. Un nulla di fatto o un giro di boa per il processo d'appello che potrebbe aprire nuovi scenari e tempi alla luce degli elementi con i quali Giustini racconta la storia del crack tirando in ballo l'intero ex CDA. Il calendario in teoria dovrebbe rimanere quello. Se la Corte dovesse accogliere anche le richieste istruttorie dei rispettivi difensori, allora si potrebbe slittare il processo, però penso di poter escludere che si arriverà a una soluzione così estrema.